Si comincia con diversi tipi di camminati in acqua, muovendo bene le ginocchia. Un esercizio di coordinazione, trazione delle braccia e salto verso l'alto. Si comincia con le scivolate, per avere la sensazione del corpo che galleggia e scivola nell'acqua. Scivolata con oscillazione delle braccia, per fare l'esperienza delle scie e delle turbolette. Musica L'alleggiamento e con le mani cerco di andare a toccare il fondo. Musica Mentre galleggiamo, apriamo e chiudiamo le braccia. La chiusura è forzata, mentre lascio salire le braccia in galleggiamento. Musica Gli esercizi che facciamo con le braccia mentre siamo in scivolata, ci servono per prendere coscienza dell'elemento acqua. Musica Usiamo il tuffo delfino che vediamo adesso. Per sperimentare la profondità dell'acqua. Musica Per mettiamo la rotazione in acqua, passando dallo stile libero al dorso. Musica Musica Utilizziamo i tubi per fare il lavoro in galleggiamento, pedaliamo con le gambe avanti e indietro. Musica 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 Per il galleggiamento prono raggiungiamo la massima apertura di bracci gambe e la massima raccolta. Musica 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 In galleggiamento col tubo portiamo primo un ginocchio poi l'altro e entrambi al petto per riposare la schiena. Musica 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 Musica